Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Il palazzo meglio di chiunque altro, Mariana, no? Alla luce dei 40 anni di politica... Cioè, mi avete invitato come reperto archeologico, grazie. Politica attiva al lavoro. Grazie. Politica attiva al lavoro. Tra l'altro, vogliamo dirlo per i cultori, è così alla pace che anche jeans strappati. E poi, collegati con noi...